Venerdì 1 dicembre, sala consigliare del comune di Lauria, si presentano gli eventi natalizi nel comune Varnocino. Sindaco, una vetrina importante nell'area sud-lucana, anche visto il capodanno di Maratea, quindi anche Lauria ci tiene a fare bella figura. Cosa c'è in cantiere? Diciamo che è un'occasione importante. Questa settimana si è aperta con la sottoscrizione del protocollo con l'APT per poter fruire del sito a livello degli eventi di maggiore attrattiva turistica, quindi questo è un altro elemento che dall'anno nuovo si andrà ad aggiungere. In pentola diciamo che quest'anno con la cooperazione dell'Alca, dell'assessorato, abbiamo deciso attraverso i tavoli permanenti, fatti attraverso i commercianti, di organizzare qualcosa di diverso, qualcosa che possa essere di attrattiva. Naturalmente c'è anche la questione Maratea, ovvero il capodanno, ed in merito sarà importante nei prossimi giorni cercare di fare degli incontri anche con le prologo di Maratea. Io mi sono messo già in contatto con il sindaco, con il vice sindaco, ci hanno contattato per quanto riguarda la gestione dei punti vendita di prodotti enogastronomici. Stiamo cercando di creare la massima cooperazione. Naturalmente sappiamo che questo evento darà risalto al territorio. Noi cerchiamo di organizzare il Natale particolare per quanto riguarda le aspettative del nostro territorio comunale, e naturalmente coordinandoci con Maratea dove ci sarà un evento di una portata non indifferente. Dall'8 dicembre all'8 gennaio, quindi un mese molto intenso, si può già anticipare qualcosa che ci sarà sull'Auria? Diciamo che stiamo puntando a delle illuminazioni particolari che vengono su proposta dei commercianti, di qualcuno della Prologo. Stiamo puntando ai soliti mercatini. È qualcosa di innovativo che può essere la pista di pattinaggio su ghiaccio, su cui ci stiamo ripiegando e porteremo in campo attraverso la disponibilità dell'Alca, l'Associazione dei commercianti che ha dato disponibilità a coordinare il tutto nell'ottica di poter fare un evento ed un investimento, perché trattasi di investimento che magari possa portare numeri sul territorio appellandoci per prima ai laureoti che ci auguriamo possano fruire in queste festività, certamente non parliamo del 31, se uno va a Maratea è legittimato anche nei giorni precedenti, possa fruire di quanto nelle stagioni passate è stata installata in altri comuni ed ha avuto delle buone utenze. La notizia positiva, l'ultima domanda che faccio è proprio questa, cioè fare rete anche sul territorio, quindi fare rete anche con gli altri comuni, ma soprattutto quello che c'è stato nel corso del mese di novembre e anche prima, un tavolo fattivo con i commercianti che quindi ha dato il risultato di cooperazione e quindi anche di fare rete a livello locale. Diciamo che io avevo dichiarato in campagna elettorale che il nostro obiettivo era quello di instaurare dei tavoli permanenti, non perché non si avessero idee, ma perché la concertazione che viene dal basso, il confronto con chi è del mestiere magari può portarci a migliorare. Naturalmente quest'anno abbiamo deciso di mettere in campo all'unisono tutti, ognuno secondo il proprio contributo, qualcosa di particolare e naturalmente non è una cosa semplice. Stiamo riuscendo a portare in campo, quando meno l'organizzazione, ci auguriamo che la riuscita sia la stessa, ma faremo di tutto affinché l'Auria possa essere una connessa, perché avremo nei diversi rioni i mercatini e la pista, ma poi la connessione, la visione dei presepi. Stiamo cercando di fare qualcosa di particolare per il nostro paese, così come ci eravamo prefissati prima di essere eletti, e soprattutto convidandone alla cooperazione di chi vuole fare, e lo vuole fare in maniera propositiva, legittimo il diritto di critica, perché altrimenti senza di quello non si cresce, però c'è bisogno anche di chi coopera e di chi comunque attraverso una critica costruttiva ti porta a migliorare, e ci auguriamo a fare qualcosa di buono come quello che stiamo cercando di mettere in campo quest'anno. Sindaco, visti anche i numerosi eventi, l'Auria ha anche un laboratorio teatrale con numerose compagnie di teatro, e anche alla luce degli eventi che ci saranno in questo mese è molto intenso. C'è il caso della Sala Atomium, dove poter fare esibire le compagnie teatrali, sia locali che anche che vengono da fuori. Ci sono novità in merito all'uso di questa sala? Come tutti noi ben sappiamo la Sala Atomium ha visto dei problemi nel recente passato. Naturalmente poi si sono affrontati, risolte la responsabilità e prettamente del dirigente scolastico, che ha ravvisato alcune particolarità per questo tipo di manifestazione. Ci stiamo lavorando. La questione però l'amministrazione l'ha affrontata per tempo, perché nel finanziamento del palazzetto che abbiamo rinviato semplicemente per consentire di giocare, perché altrimenti il tempo non ci sarebbe, c'è l'adeguamento della Sala Atomium a sala teatrale cinematografico. Quindi abbiamo preso in carico questo problema e ci auguriamo, noi oggi ne abbiamo iniziato a parlare perché faremo partire la gara a inizio gennaio. Partiti i lavori al palazzetto verranno fatti anche i lavori di adeguamento all'Atomium. Per quanto riguarda la Sala Atomium ci stiamo relazionando con il dirigente scolastico. Naturalmente bisogna tener conto di quelle che possono essere le criticità avanzate, rispettando ruoli e responsabilità. Cercheremo di fare il possibile, però capendo che per il proseguo abbiamo messo in gambo un intervento sostanziale che sgombe di tutto ciò. Per il resto va analizzata manifestazione per manifestazione, come il dirigente giustamente ci ha chiesto. Assessore Amato, siamo qui nella Sala Consiliare venerdì 1 dicembre per presentare il calendario di eventi per le festività natalizie di laurea. Una vetrina importante quest'anno, anche alla luce come abbiamo detto prima col sindaco, per quanto riguarda la vetrina di Maratea in cui ci sarà il capodanno della RAI. Però anche Lauria vuole fare bella figura, fare rete e anche soprattutto rete locale anche con l'ausilio dei commercianti. Cosa prevede questo lungo mese qui a Lauria? Buonasera innanzitutto ai ascoltatori di Lucania TV. Come hai detto tu, Giacomo, siamo in calendario, una serie di eventi che vedono al centro l'evento principale che è quello della pista di ghiaccio, dei mercatini, dei presepi, delle luminari. Però tutto questo si è potuto realizzare grazie all'ausilio, al forte imbursa dato dai commercianti di Lauria tramite l'Alca e di concerto con l'amministrazione comunale. Non sarà solo quello, perché quello sarà l'attività principale che ci auguriamo possa colorare e dare colore e calore alla nostra cittadina. Crediamo che vada nel senso positivo di questo termine perché comunque costituirà un'attrattiva, penso che in zona ce ne sono poche e sappiamo, guardando sui siti internet, guardando Cindorno a più larga scala, che sono delle attività che d'inverno vanno moltissimo, poi attraggono molto i bambini, i bambini attraggono le famiglie, quindi portano l'agenda a uscire, quello poi che ci riproponiamo come amministrazione, quello di rivivere il nostro paese in questi periodi che sono sì festivi, però si è perso un po' quella socialità che è il coinvolgimento della socialità che ci caratterizzava negli anni passati, quindi magari sarà anche un motivo in più per rivivere i nostri paesi. Di concerto con le associazioni invece abbiamo cercato di stilare un calendario che questa sera lo presenteremo in parte, e approfitto di Lucane TV per presentare quello che è già consolidato, già certo, però aspettiamo il feedback delle associazioni nei tavoli che ci sono succeduti, alcuni tavoli sono stati prettamente con i commercianti, altri invece con i commercianti e con le associazioni, quindi sicuramente abbiamo chiesto a loro di fare degli eventi collaterali, chiamiamo collaterali, però corollario dell'evento principale, quindi dell'attrattiva principale. Già in campo, il giorno 6, partirà una mostra alla Fondazione Beato Alentini, al Palazzo della Fondazione Beato Alentini, organizzata dall'amministrazione comunale, di concerto con l'associazione Basilicata Today di Matera, che presenterà le eccellenze, una serie di quadri fotografici sull'eccellenza della Basilicata. E noi collaboriamo a questa mostra, cercando di presentare le nostre eccellenze, dal punto di vista enogastronomico, perché vogliamo fondare moltissimo sui prodotti d'eco, su quelli che poi, c'è tutto un iter, che abbiamo avviato la vecchia amministrazione, non si stanno dicendo, scusate il termine, sta seguendo questa amministrazione perché è cambiato l'interlocutore dell'Arsia che si occupa di questa particolare linea, e quindi questi prodotti d'eco, noi condiamo al più presto di portarli a definizione, come i prodotti d'eco, che sono i prodotti, i dolci tipici di Lauria, il viscutto, il viscuttino, la genetta e il pizzetto. Quindi metteremo al centro già da questa occasione questi prodotti, poi insieme a qualcosa di artigianato, tipico, Lauriotto, ceramiche, cestelli di vimini e quant'altro che possa caratterizzare. Questa mossa sarà aperta dal 6 all'11 dicembre nel Palazzo della Fondazione Lenina. C'è in itinere già consolidata, quindi già in fase di programmazione, l'edizione 2017 di note strofe del Natale, nei giorni 13, 15 e 17 dicembre. Il premio Mediterraneo, che quest'anno avrà una versione, diciamo, invernale rispetto al formato di estivo classico, che sarà fatto il sabato 16 all'Otel Isola. C'è una manifestazione teatrale il giorno 29 alla Sala Automium, però ci sono altre interlocuzioni in corso con varie associazioni per cercare appunto di dare un panorama più ampio. In questo caso anche la Prologo sta cercando di essere e attore principale su questo con qualche evento di propria iniziativa e di coordinamento con tutte le associazioni per occuparsi di questo aspetto specifico, degli eventi, chiamiamoli collaterali.